Amici di Sportaclometro Zero ben ritrovati, siamo con Francesco Rodi, dirigente della Petrazza Calcio per parlare di questa iniziativa, ormai una società Francesco che vive da tre anni e quindi avete sicuramente alla base un ottimo progetto. Sì, noi abbiamo più che altro prima di tutto la base dell'educazione per il ragazzo, per il bambino perché oggi ci capita anche domenica, abbiamo avuto un episodio dove abbiamo anche sospeso la partita perché non è più possibile pensare che in tribuna ci sono genitori che vengono a vedere la partita con il rancore dentro e poi parli con i bambini mentre giochi che sono tranquillissimi e valutano la partita come un divertimento come così deve essere e quindi dispiace quando succedono queste cose nelle varie tribune di altre partite. Noi abbiamo un progetto serio, un progetto di calcio molto strutturato dove abbiamo cercato di inserire all'interno della nostra struttura tutte persone che vengono dal calcio tutti gli allenatori da Marco Sereni da Beppe Forasassi che ci dà una mano come collaboratore da Francesco Zelli che allena i portieri poi abbiamo insomma altri ragazzi che ormai hanno giocato comunque nel calcio provinciale ma proprio lo stesso te lo ricordavamo prima te l'hai detto così io sono giocato a Montevalli a Montevalli a San Giovanni quando c'erano gli ammendori e comunque insomma cerchiamo di come tutto prepararli allo studio certo perché devono essere pronti facciamo riunioni con il Genova Calcio dove ci mettiamo a confronto noi con le loro idee e cerchiamo di poi mettere in pratica nel campo certo proprio c'è questo contatto proprio per avere come dire un tipo di allenamento beneficente che vada giù a crescata certo quindi loro sono molto bravi nel far questo perché da noi vengono allenatori molto qualificati che seguono le leve singolarmente e dopo noi cerchiamo di mettere in pratica quello che loro insegnano dicevamo 140 ragazzi bel numero sì bel numero un numero molto importante dove cerchiamo di quest'anno per la prima volta siamo arrivati a questo numero e diciamo che cercheremo di curarli nel miglior particolare senza essere gelosi di altre società perché ognuno deve guardare in casa propria però ognuno deve cercare di essere in sintonia dato che alcune troviamo anche gelosie sparse tra queste società in tutti i settori sì in tutti i settori però dispiace perché bisognerebbe che trovare collaborazioni invece che mori da altre parti soprattutto anche da parte della federazione gioco calcio che dovrebbero controllare più gli ambienti dove andiamo e dove giochiamo anche il nostro ma tutti invece c'è molto assetismo da parte di voi bene intanto però intanto la struttura è abbastanza ottimale si la struttura è ottimale è ristrutturata tutta ora in futuro avremo anche delle novità che non posso dire comunque ci stiamo trovando bene bene Francesco a questo punto l'appuntamento è a mercoledì prossimo alle 18.30 dove faremo il Bruno Nesquini così faremo una bella diretta con il presidente Carlo Barzotti l'avvocato Carlo Barzotti e Andrea Branchi e gli allenatori bene quindi ringrazio Francesco Rodi ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e ringrazio Paolo Barbagli per l'ospitalità e quindi le nuove mi invito continuati a seguire grazie a tutti grazie a tutti